e voglio essere onesto e sincero fino in fondo perché non riesco a non vedere anche quelle che sono e che sono state le cose più più grottesche più comiche pure di questa situazione va bene la storia nasce da questo io in realtà come tutti i giovanotti giovani dell'epoca sognavo cioè streller era come dire oggi spilberg insomma e non esagero e non esagero assolutamente cioè arrivare su quel palcoscenico era un sogno per tutti ma non dico che non ci stessi pensando conducevo la mia vita ancora di apprendista attore forse attore e un amico comune mi presentò una sera a una cena a roma gianni santuccio un dio e facciamo non dico subito amicizia però ci fumo simpatici a un certo momento prendo e decido di andare a milano e in cerca cerca in cerca di qualcosa perché poi quello lì in particolare il momento in cui milano era la centrale produttiva teatrale italiana insomma era tutta lì quindi vado a milano e la prima cosa che faccio chiaramente chiamo gianni santuccio quale molto gentilmente mi risponde al telefono mi dice caro caro andiamo a pranzo ti porto a pranzo e mentre siamo lì a pranzo lui parlavamo di cose io poi immagina ventenne che discutevo che chiedevo in quel momento arriva e si aggiunge al nostro tavolo cattaneo l'attore che viene lì e molto simpaticamente gli ricorda giri stava parlando chi sei è lui attore giovane di roma qui è per fartela breve cattaneo mi dice guarda che stanno facendo i provini del re leader al piccolo a dico grazie però ho paura che siano chiusi ho paura che e a quel punto non ho nessun timore a dirlo che gianni santuccio disse va bene domani chiamo il piccolo cerco di capire com'è questa situazione e mi ricordo che passai tutto il giorno dalle 9 di mattina alle 6 del pomeriggio dentro il piccolo teatro di milano aspettando il mio turno perché ero stato preso per ultimo quindi sarei entrato anche per ultimo salì sopra il palcoscenico e sopra il palcoscenico e trova trovai quel palcoscenico che era del relire che era fatto di gomma truciolato di gomma era una roba per camminarci veramente non difficoltosa di più mi metto al centro e non l'avevo ancora visto streller ho sentito solo una voce dal fondo della sala e allora come ti chiami dico massimo che da dove vieni da roma a un romanaccio allora medi così maestro cosa cosa hai preparato io avevo preparato ricorda con rabbia di osborne un classico dei provini solite e faccio la mia performance finisce questa cosa e lui dice ah bene 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 hai portato qualche altra cosa e io li sto rimasto così ho detto no non ho portato niente sono arrivato mezz'ora fa non c'avevo niente questo c'avevo ma proprio niente e anche una positiva non so ma va bene va bene va e io ho pensato io qua lì bruciato vivo perché chiaramente ti pare che vai a un provino non ti presenti almeno con due cose il risultato arriva è una telefonata e mi dicono guarda che t'hanno preso a me è preso un infarto più che altro perché veramente non credevo infatti ho chiamato mia madre mi ricordo che ho detto senti ma qui qualcuno si è sbagliato o alla scuola della silvio d'amico dove io ero stato da poco bocciato all'esame da missione in accademia o si è sbagliato streller ho detto dico quindi poi la storia darà ragione a qualcuno però insomma fatto sta che felicissimo di questa cosa qui torno a milano e iniziano le prove è lì che c'è stato il salto nel fuoco per questo ciò la premessa tutta quella io arrivo a milano appuntamento nel cortile del vecchio piccolo che per me rimane il piccolo nel cortile del piccolo e ci incontriamo tutti tutti questi attori che io guardavo veramente così perché c'è a tino carraro c'era ottavia piccolo pambieri e renato de carmine c'era un cast che per me era stellare capito io stavo lì con sta agenda non cacciava niente allora io stavo lì che aspettavo insieme agli altri non parlavo con nessuno nessuno mi guardava c'era poteva essere quello delle pulizie o uno che era venuto a portare un pacco non so una cosa qua e a certo punto arriva il solito zelante che dice adesso andiamo nella sala prove voi sapete al terzo piano e io che non sapevo dove stava la sala prove mi metto in coda dietro a tutti questi che cominciano a salire parlottando ridacchiando ricordando i bei tempi io praticamente entro per ultimo dentro questa sala enorme dove c'è un tavolone pazzesco no e rimango affascinato perché mi sembra di entrare nel come dire nell'antro dello stregone capito della cosa e allora certo punto tutti si mettono seduti e io rimango in piedi non sapendo dove sedermi e noto che c'è una sedia sola libera in questo tavolone enorme esattamente davanti a streller io ho la mia faccia tosta mi metto seduto proprio con lui davanti ma lui non mi aveva visto ero di vetro niente e allora comincia la lettura attenzione prima dell'inizio della lettura non vengono consegnati i copioni viene consegnato il libro pubblicato con le fotografie che se c'è un'altra cosa che ti mette un minimo in difficoltà non copione con un libro con tutte le fotografie quindi leggevo su un libro non leggevo su un copione e streller prima di cominciare dice va bene adesso facciamo una letturina è però dai senza così è bella tranquilla bella rilassata e io mi aspettavo questo perché quinto anno di ripresa l'ottanta per cento erano coscienti e conoscenti di tutto il testo il 20 per cento erammo in realtà poi noi giovani e allora che succede che cominciamo a leggere e io so da quello perché avevo letto un'altra edizione di relire non questa che le battute mie stavano quasi verso la fine fatti dopo l'accecamento di gloster allora aspetta aspetto leggo rilegge leggo ripasso insieme a loro seguo loro che recitano e questi disgraziati dopo nemmeno un minuto che lui aveva detto una cosettina così bella leggera ci mancava poco e saltassero sopra il tavolo già col costume e recitassero perché la sapevano a memoria memoria marcia finalmente arriva la scena mia e gli scatta un po la mia anima io la chiamo da boy scout anche se non sono mai stato un boy scout però un po così ce l'ho perché la scena mia viene dopo l'accecamento di gloster tutto questo avveniva tra le urla totali di tutti e quattro personaggi di queste quattro belve di queste quattro iene che si lanciano addosso a lui e che dicevano tutte le battute urlando finito questo dove toccava a me il boy scout ha detto cazzo qui urlano tutti che faccio io di colpo allora virgola dovreste virgola e quindi io preso da quest'impeto anch'io ho detto in quel momento si fa noto un gelo totale streller che alza la testa mi guarda per la prima volta mi vede mi inquadra e mi dice cosa cazzo stai dicendo io io in quel momento c'è la sensazione mia io volevo essere teletrasportato da qualunque altra parte del mondo perché mi sono sentito morire dico oddio ha capito dai ma ti pare che si dire ma tutto quel sentimento è quella roba che c'è dito dai uno ci ragione perché era l'esatto contrario cioè di fronte all'urlo delle belve il misero come sempre il povero il full dice le grandi verità o comunque fa delle grandi riflessioni filosofiche adesso faccio il figo con i capelli bianchi e i figli che ho capito ma all'epoca per me ho detto urlano tutti e te pare che non urlo pure io urlo pure io invece era esattamente il contrario le prove che sono per me tre anni d'accademia quelle prove lì sono state tre anni d'accademia perché dico le prove e mi concentro particolarmente proprio su quello che è stato ed era il grande valore di giorgio streller quello che ho imparato da giorgio streller è dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista etico molto importante io ho un ricordo che ce l'ho stampato ve lo dico lo ridico lo ripeto e prova con tino carraro di una scena di una scena drammatica di non mi ricordo quale momento del via quello non me lo ricordo però erano era tino da solo in scena così e lui a un certo punto dalla sala siamo al quinto anno di ripresa tino le ha fatti tutti e cinque la sa come il padre nostro praticamente non c'è detto e lui si alza fa tino 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 aspetta 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 tino e tino si ferma e gli dice tino ma secondo te questa battuta il pubblico la capisce bene capisce il significato tradotto perché tu che sei un grande regista a livello internazionale che dirige ai diretto dirigerai l'ira di dio al quinto anno di ripresa forse ti accorgi che ti è sfuggita una roba ma quello che mi piace è la preoccupazione nei confronti del pubblico capivo per quale motivo al piccolo dato di milano non voglio far populista ma c'erano le gran signore della milano bene e gli operai dell'alfa romeo a vedere questi spettacoli e questo per me è stato un grandissimo insegnamento oggi uno spettacolo di streller tu sei in grado di poterlo rifare se avessimo questo coraggio se avessimo questa voglia volendo se c'è qualcuno con intelligenza perché il problema diventa quello cioè ti devi mettere al servizio totale e proprio dire faccio una ricostruzione di una di una cosa straordinaria perché poi era quello era una cosa straordinaria e mi piaceva la sua irruenza vera quando facevamo le prove il suo sarcasmo il suo essere sempre brontolone ma con amore con affetto vero non io non ho mai visto amare gli attori come li amava lui poi giulia lazzarini appesa che volava la tempesta giulia mi raccontava delle storie pazzesche però sono convinto che sia giulia glielo chiedessero ancora adesso che non è più proprio una bambina sarebbe pronta domani mattina a farlo perché è faticoso quando è bellissimo se no non lo so il giardino dei ciliegi quando l'andai a vedere a roma appunto quando incontrato gianni santuccio io rimasi a bocca aperta loro mi offrirono di fare la tempesta dopo un po' occhi chiusi però dovevo fare uno dei marinai dell'inizio della tempesta quelli che muovevano però facevo solo quello insomma io fremevo un po' e poi il caso ci si mise in mezzo perché appunto ci mandarono poi a fare questo timone d'atene di shakespeare a pavia insomma in quel caso lì venne gabriele lavia e mi chiese se volevo fare amleto con lui e allora sono non dico caduto nel tranello però mi sono lasciato trascinare in quella situazione lì cioè avrei voluto fare un personaggio nella 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 tempesta invece questa non fu occasione io credo che tanti e anche più come posso dire non importanti ma forse più in grado di dare e di fare una spiegazione tecnico scientifica della validità della qualità della regia del suo modo della mettere in scena io sono più sono più basico da questo punto di vista e quindi ho ho un ricordo di questo lavoro di questa situazione come una sorta di di viaggio nel 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 nell'aden proprio cioè perché era tutto immagina fare le prove debuttare al teatro de on a parigi per poi ritornare il piccolo ma poi fare la ripresa televisiva io sono l'unica edizione sono nell'unica edizione filmata e quando l'ho rivisto mi sono commosso da solo perché mi sono messo una tenerezza con sti capelli lunghi proprio un giovanottino ero proprio quindi pensa quante emozioni tutte insieme no che forse non mi mettono nella condizione di saper dire il doppio piano di lettura questo incrocio tra i personaggi è stato scritto e detto talmente tanto io parlo dell'esperienza di un essere umano che cominciava questo mestiere maledettamente straordinario e era cominciato entrando dal portone principale perché c'era un rapporto poi proprio tecnici maestranze con tutti voglio dire proprio si capiva che tutti entrava il capitano non entrava il direttore entrava il capitano che è diverso capitano e capitano ma c'ha la maglietta come la tua e c'ha solo la fascia ma gioca come te prende i calci come te e suda come te quindi io un giorno si tolse i pantaloni in scena preso da un raptus per spiegare sempre a un attore perché lui voleva spiegare non c'era niente di c'era una tale preparazione intelligenza talento che poi passava e andavi al di là del fatto del purista che io ho faticato molto a chiamarlo giorgio non riuscivo a chiamarlo giorgio l'ho sempre chiamato maestro 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 sera della prima l'odeon al teatro deon a parigi teatro straesaurito lo spettacolo non mi chiedere perché era in ritardo di 45 minuti 45 minuti era ritardo perché quelle cose che succede la prima la tensione nervosa un errore in cambio non lo so la pausa l'uno era in ritardo c'era un ritardo era insomma enorme io sto come sono stato tutte le sere dello spettacolo dietro le quinte a vedere gli altri perché quella era la scuola che mi avevano negato me la facevo lì sopra e quindi stavo lì a un certo punto mi sento a toccare mi giro e mi trovo lui una nuvola d'argento vestitissimo con questo vestito blu la sua cravatta bello perché poi era proprio bello era anche bello era un uomo anche affascinante bello così che mi guarda e mi dice senti il bacio adesso quando finisce ed era l'ultimo momento c'era lui siate uomini ho pietre con la figlia in braccio lì l'ultimo monologo e lui dice adesso quando va adesso appena si finisce lo spettacolo si fa separio tu vai da Tino e gli dici che io non vengo ai ringraziamenti perché siete degli idioti hai capito pensa sempre io Massimo Poghini da qua che sto lì davanti al maestro dei maestri volevo affittare dire come scusi non ho capito bene e io ruffianissimo ma ho avuto la reazione di dire maestro ma tutta Parigi l'attende e lui mi ha guardato in faccia mi ha detto è andato via poi si è riaperto il simario è partito di la gare di standing ovation sai una roba pazzesca tutto lo spettacolo avere a un certo punto Tino ma io non ho avuto il coraggio di dire niente a nessuno io stavo dietro zitto no Tino l'ha preso e l'ha trascinato e lui è entrato ringraziando quello che mi piace quello che mi è proprio il rapporto con il pubblico e quel imprinting che ho avuto incontrando incontrando comunque Streller e quella mentalità la Vinki mi disse una cosa la prima volta vengo ho chiamato come al solito mi sembrava di San Caserma e mi dicono Ghini è dalla signora Vinki che era come dal preside ho detto oddio 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 che ho fatto sono salito su sono entrato ho bussato lei avanti stava seduta no col telefono che parlava il telefono io sono entrato sono rimasto sulla porta così ero fatto sì e continuava a parlare il telefono perché qui perché là su e giù ma possiamo 14 15 sedi ma mi viene un quarto d'ora io ero sempre seduto lì che sudavo perché di nuovo quando ho finito attacca il telefono si segna delle cose e mentre si segna quelle cose mi dà un'occhiata e mi dice Ghini si ricordi qui siamo a Milano non siamo a Roma un'altra persona dice come va tutto bene tutto a posto come stiamo capodanno capodanno a prato con una cosa che non mi era mai successa e noi ricettavamo a capodanno col teatro pieno a un certo punto è stato Giancarlo con tutti e ci hanno dato delle bottigliette piccole così di tanto non c'è sta più si chiamava top brut 21 ancora ve lo ricordo era uno spumante mefitico però boccette piccole così e ci danno a tutti una boccetta va bene quindi era fatto sipario sipario chiuso dietro ci danno a tutti e sta boccetta si riapre sipario per fare dieci nove otto sette capodanno solo che c'erano noi venti con venti bottiglietti e mille persone che ci sparavano addosso tu ti dico ma com'è la poesia re lì era scepe tutti questi papà papà coi tappi io dico tutto questo ti fa capire con che gioia con che professionalità e con che amore e con che senso del del gioco di squadra ho iniziato mi ha talmente condizionato che ogni volta mettevo sempre gli altri non tanto per dire sai io ho lavorato con ma proprio per capire le differenze le differenze questo penso che sia stato per me il grande insegnamento poi lui era 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 preciso con tutti era preciso con tutti nel senso che non c'erano noi eravamo spesso affidati agli aiuti perché era talmente tanta gente da provare le cose però poi quando c'era da provare lui non è che non ti considerava o ti lasciava passare una cosa c'era una cosa non andava te lo te lo diceva ti correggeva l'esperienza l'esperienza più più forte che ho avuto all'inizio della mia carriera è che mi ha che mi ha spinto a farla perché dopo la bocciatura mi era venuta un po di depressione pensavo sei da ragazzo no vieni bocciato all'accademia e invece fatto che poi fossi stato preso da lui era meraviglioso meraviglioso meraviglioso